Ed ora spazio all'arte, lo faremo con una serie di amici variegati perché oggi avremo diversi appuntamenti da portare nelle vostre case per fare anche magari una gita fuori porta. Ci portiamo infatti subito a Roveretto con Diversity, i diritti umani raccontati dall'arte. In studio abbiamo Roberto Ronca che è il curatore della mostra Human Rights e Ivano Mancioppi di Poetria che è il movimento clandestino di resistenza poetica. Oggi vi racconteremo che cosa succede anche nella nostra città da qualche anno a questa parte. Ma io inizierei con Roberto perché chi meglio di lui ci può raccontare che cosa è allestito già da ora a Roveretto e che proseguirà tutta l'estate, giusto? Fino al 21 settembre. Human Rights Diversity è una rassegna internazionale di arte contemporanea che vuole parlare quest'anno della diversità, della diversità in tutti i sensi, del diritto alla diversità e della ricchezza che dà la diversità all'essere umano. Andiamo a vedere anche qualche immagine perché c'è addirittura uno spot che racconta un po' quello che è lo spirito anche che ha animato diversi artisti. Possiamo definirla un po' una collettiva? È una collettiva. Abbiamo selezionato quest'anno 141 artisti provenienti da 34 nazioni e quindi abbiamo dato spazio un po' a vari punti di vista sullo stesso argomento. Abbiamo visto anche il luogo che è l'opera campana dei caduti di Roveretto, una fondazione legata al Mart che ospita, ecco lo stiamo vedendo, cos'è? Questa è la preparazione? Queste sono alcune fasi del... 141 artisti abbiamo visto addirittura. Esatto, 141 artisti. Ecco, queste sono tutte le nazioni rappresentate, alcune fasi dell'allestimento anche sotto una pioggia battente nella settimana prima dell'inaugurazione, quindi eroici anche gli artisti che hanno allestito in condizioni veramente sfavorevoli. Mostra l'aperto o mostra il chiuso? E entrambe. Abbiamo tante installazioni all'aperto. Ecco, che cosa è che stiamo vedendo per esempio? Stiamo vedendo un'opera del duo artistico Memo Art che ha raccolto tante, tante, tante scarpe e ha ricostruito il percorso dei migranti in maniera ideale sul prato della fondazione. Questa è una mostra che torna ogni anno parlando di diritti umani ma con diverse interpretazioni? Sì, Human Rights col punto interrogativo perché il vero fulcro del concetto è il punto interrogativo, è una domanda. Diritti umani, e noi ce lo chiediamo, è il punto interrogativo rosso. Nasce nel 2009 e poi ogni anno ha il suo argomento. Quest'anno era appunto la diversità. Come riuscite a catalizzare artisti da tutto il mondo a Roveretto? Creare questa rete di contatti? Abbiamo una rete di contatti da un lavoro che facciamo da almeno 20 anni. Quindi siamo ben presenti nella comunità artistica internazionale, conosciamo migliaia e migliaia di artisti e penso che quest'anno avevamo oltre mille richieste di partecipazione e poi anche per motivi di spazio abbiamo scelto 141 artisti. Ecco, 141 è un numero di tutto rispetto. Tante sono le bandiere? Ecco, le bandiere presenti? Le bandiere sono presenti alla campana, 94 bandiere. Quindi più delle bandiere? Che sono le nazioni che hanno diritto allo statuto della fondazione. Ecco, che cosa prevede questo statuto? Beh, bisognerebbe parlarne con il reggente della fondazione, ma loro siedono anche all'ONU come organismo non governativo, come osservatori all'ONU e prevede la pace tra i popoli e l'abolizione di qualsiasi tipo di guerra o di violenza. Come forma d'arte vediamo anche una poesia che viene sussurrata nell'orecchio. Vuoi raccontarci, Vano, Poetrea, come entra in gioco in questa situazione? Allora, Movimento Clandestino di Resistenza è un nome bello, simpatico, ma noi siamo tutto fuori che clandestini, nel senso che operiamo, declamiamo nelle piazze, declamiamo in mezzo alla gente, quindi ci vedono. Declamiamo, vogliamo far conoscere la poesia nei posti più strani, nelle osterie, nelle stazioni. C'è un'idea, bisogna vedere poi se si concilia negli ospedali e anche nel, però lì c'è qualche problema che abbiamo avuto, ma siamo tenaci, e anche negli autobus. Perché? Perché la gente corre, ecco, quindi dalla piazza, dalla Gorà al Convivium, e poi si arriva a Fidati, Fidati è la poesia che diventa un salto, un salto nel vuoto, un tuffo nel mare della calma. Fidati, ti bendi, ti rilassi, e una persona vicino a te ti legge, ti sussurra nelle ore che una poesia, che sembrava una cosa un po' strana, Dio, questi qua ti bendano, cosa fanno? Invece è venuto fuori, abbiamo fatto anche quest'anno alla Primavera Poetica, che è uno dei nostri pezzi forti, sul Ponte Pietra, abbiamo portato queste sedie, c'erano dieci postazioni, quindi erano venti sedie, e la gente passava, all'inizio ti guardano, fanno paura, perché sai... Vedono le persone bendate, giustamente, si chiedono, no? No, 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 noi eravamo seduti che aspettavamo, tu ti siedi e ti bendano, cioè ti bendano pure, se vuoi ti chiudi anche gli occhi ma il bendare, e quindi all'inizio la gente aveva paura, poi la curiosità, ed è stata una cosa bellissima, perché poi Ponte Pietra è la porta che ti fa entrare nella città, e quindi una giornata meravigliosa, ed è stata una cosa di un successo incredibile, e ci sembrava giusto portarla a Rovereto, perché Rovereto? Perché, come diceva Roberto, è un posto di una sacralità vera, magico, vera, perché quando si parla di guerra possono partire strani dischi, strane musiche, invece a Rovereto lì passava il fronte, passava il fronte, e lì sono lì, andava sulla gente, i ragazzi di loro andavano a farsi ammazzare, perché poi la guerra è stata quello che è stato. E quindi la magicità di questo posto si è sposata con la poesia, la poesia che ha portato cinque, diciamo, cinque nostri amici lì, a leggere, su questo, sotto la campana, la Maria Donens, la campana della pace, in questo terrazzo naturale che domina la valle, e c'era la gente che così era entusiasta, poi c'era il vento, perché lì c'è sempre vento, non so perché c'è sempre vento, in quel posto forse perché ci sono le bandiere, ci sarà un contratto, per cui deve esserci sempre vento, e quindi la gente con questi vedi che svolazzavano e questi fogli ogni tanto con le poesia che scappavano via, così c'è stato questo momento magico, fra l'altro due artisti che partecipano alla mostra erano due nostri amici che sono di Poetria, e che quindi era un tutt'uno, siamo riusciti a fondersi direi tutto sommato abbastanza bene in un mix di arte e di poesia. Certo, anche come concetti, con Poetria sposiamo il concetto della cultura che ritorni un po' ai legittimi proprietari che sono le persone, e non solo gli addetti ai lavori, quindi loro portano la poesia in luoghi dove la poesia non c'era, e noi cerchiamo di far usufruire, di far capire le opere, creare un percorso anche emozionale a chi visita la mostra, chi visita la mostra vicino ad ogni opera, a fianco ad ogni opera. La cosa più difficile è come strutturarla la mostra, perché più che le cromie e le tematiche si deve pensare a un percorso di sensazioni. Sì, anche perché le sensazioni è la base del percorso che creiamo, anche perché noi amiamo unire tutti i linguaggi che gli artisti hanno a disposizione, dalle performance all'installazione interattiva, alla pittura, alla scultura, alla videoarte, e sono tutte lì in un percorso caleidoscopico. Chi visiterà la mostra troverà il messaggio dell'artista al fianco di ogni opera. La fotografia dell'artista, così l'artista non è più questa entità sconosciuta, ma lo vedono, vedono il faccione dell'artista. È questa una scelta interessante. Sì, anche divertente, e abbiamo visto che poi il pubblico apprezza tantissimo, sente l'artista più vicino, ne vede la faccia, il viso, l'espressione, anche l'etnia, e in più legge il messaggio che l'artista vuole dare con quell'opera. Ma tornando alla poesia, Ivano, che tipo di versetti scegliete voi? Di tutto. Ma vostri o dottori famosi? No, nel gruppo ci sono anche degli amici che si dilettano di poesia, ma assolutamente si vuole far conoscere i poeti, i poeti italiani, i poeti giovani, i poeti stranieri, i poeti alcuni anni, per esempio, sono le osterime, che sono degli appuntamenti fissi che ogni mese, in varie osterie della città, e fra il tintinnar dei bicchieri si legano le poesie, e questa scommessa è stata vinta, perché la gente viene, la gente si diverte, la gente c'è questo contrasto fra una lettura che richiede il silenzio e invece un po' l'ambiente che è tutto fuorché silenzio, eppure ogni anno vediamo che la gente partecipa, si diverte, adesso... Quando è che sarà la prossima edizione? Osterime? Allora, le osterime si sono esaurite, diciamola, l'11 di maggio, però, ecco, io adesso non vorrei fare la clac, però poetria, poetria in festa, il 4 di giugno che sarà sabato, noi festeggiamo nella nostra seconda festa di poetria, ed è a Villascopoli, ci sarà, dove porteremo una poetessa giovane, che è Alessandra Racca, che è una torinese, una poetessa che racconta le vite di tutti i giorni, è molto brava, è molto spiritosa anche, siamo a Villascopoli, lì ci sarà una festa, ci leggeranno poesie, ci sarà musica, ci sarà da mangiare, da bere, un po' di sano convivium, perché noi sostanzialmente siamo un gruppo che vuole divertirsi, per cui la poesia... Scusa, chi dice che la cultura debba essere per forza noiosa, voglio dire, anzi la cultura... Quindi non è più un paese per vecchi la poesia? Allora, noi abbiamo avuto dei vecchi che non erano tanto vecchi, ma che quando sono venuti a sentire una delle prime osterime si sono scandalizzati perché si sentiva il tintinnar dei bicchieri. Ovviamente diciamo vecchi in maniera... No, ma io sono vecchio... Ha un grande, ha un grande film. Io sono vecchio e ne vado fiero, nel senso che vuol dire confesso che ho vissuto, lo diceva Pablo Nerula, per cui giusto per stare... Però dico, il bello è proprio che questa materia, questa che sembra così delicata, così eterea, così, che deve stare con una luce soffusa, invece entra di brutto perché scopriamo che la gente in questo correre continuo, in questo continuamente guardare il cellulare, questa roba qui, certe volte ha... e questo per me, fidati, è la cosa più bella, ha proprio la voglia, la necessità di rilassarsi un attimo e stare da solo con se stessi e quindi la poesia riesce a darti anche questi aspetti magici. Ripeto che lì a Rovereto si giocava in un ambiente estremamente favorevole perché il posto è veramente meraviglioso. Però la concessione ce la siamo presa anche noi oggi perché siamo ben a 4 minuti di sforamento rispetto al nostro timer, la tabella di marcia, però con i nostri amici rimaniamo ancora qualche minuto, tra le altre devo presentarvi una persona, a voi e ai nostri telespettatori, tra pochissimi istanti. Torniamo a parlare di arte ed ora è il momento ideale per portare nelle vostre case il Nichi Leonetti che lui probabilmente nel suo essere autentico insegna l'arte di vivere, di stare al mondo, di pensare senza barriere mentali. e ve lo presentiamo con questo filmato. Ciao, io sono Nichi Leonetti, visto che non me l'avete chiesto, ora vi racconto la mia storia. Ciao, io sono ragazzo sveglio, ho quasi. Oh no, così non va bene, così non posso uscire. Ok, ci siamo. Prima di tutto sono famoso per la mia smart. Poi dal 2030 mi conoscono per vendato vita a un progetto ambizioso. Il progetto si chiama Si può fare perché no. Insieme al mio team voglio abbattere le varie mentali che spesso limitano più di quelle fisiche. Ho iniziato ad andare alle scuole perché volevo trasmettere il mio messaggio a più persone possibili. Quello che oggi mi anch'isse sono le emozioni che vendo riflessi negli occhi dei ragazzi mentre mi ascoltano. Lo sport mi ha aiutato a superare molti ostacoli. La Stratandua dovrei smettere di giocare, ma per fortuna dopo ogni fine c'è sempre un nuovo inizio da cui partire. E se il loro allenatore è il mio nuovo inizio in questo meraviglioso sport. La cosa più importante che ho capito in questi anni è che non bisogna per forza comprare grandi gesti per creare inclusione. A volte basta così poco. Si può fare perché no. Grazie Niki e un po' di inclusione sociale vogliamo parlare anche attraverso queste mostre perché penso che una delle priorità sia quella appunto di aggregare delle persone che più andiamo avanti con i tempi e più fanno fatica di incontrarsi. Quindi speriamo per esempio che la mostra allestita a Rovereto sia un motivo per portare anche voi fuori dalle vostre case. Svegliete pure anche Telearena per un giorno, siete autorizzati per andare a vederla. Però chiedo alla regia di vedere anche le immagini della mostra di Giancarlo Bentrame che doveva essere con noi oggi, ma purtroppo ci porta solo alcuni scatti che parlano della sua esposizione e selfie. Che sarà allestita fino al 31 luglio, siamo nell'Art Gallery del Sushi Club 133 a Desenzano, un'opera personale con 27 opere e ci sono i link anche su Facebook per saperne di più. Una mostra che abbiamo visto già allestita anche sul nostro territorio e benvenga insomma quando ci sono altre situazioni che possono accogliere l'arte. Però so, Ivano per esempio, che non dobbiamo dimenticare nessuno, no? Perché a proposito di artisti ci sono... Allora, a proposito di inclusione appunto, perché poi ho i compiti da fare quindi devo farli. Fra gli artisti che partecipano e che sono anche di poetri appunto c'è, che hanno portato l'opera dal titolo Dal mare, dalla terra, dal sole e dal vento. Praticamente con l'associazione di volontariato Terra Aperta di Verona, ci sono Iaia Zanella, Giuliana Magalini e Chiara Ferrari che con 14. Io li avrei nomi ma scusatemi sono un po' tosti, sono 14 ragazzi, giovani richiedenti asilo. Vengono da tutta l'Africa, hanno fatto quest'opera che è appunto scaturita da un laboratorio espressivo, artistico, organizzato dall'associazione Terra Aperta, che appunto hanno ottenuto Iaia, Zanella, Giuliana Magalini e Chiara Ferrari, e che hanno portato questa opera che è una, è nata, l'hanno costruita tutti insieme ed è presente. È un'opera a 30 mani. È un'opera a 30 mani, sì esattamente a 30 mani perché, quindi questo per dire l'inclusione, oggi che si parla di chiudere, di rifare muri, questa è una risposta, poi siamo su per la Val d'Adige, poi alla fine della Val d'Adige c'è il Brennero, per cui, e non vogliamo fare così, noi ci piace raccontare, allora ci piace pensare che anche questo sia un piccolo passo invece per cercare di abbatterli questi muri, di sgregarli perché abbiamo visto che non ci sono. Abbiamo un nome importantissimo che non possiamo dimenticare. Beh, Human Rights Diversity resta visitabile alla campana fino al 21 settembre. In questi quattro mesi ci saranno tante, tantissime manifestazioni, la mostra ne farà da cornice, uno tra tutti, ci tenevo a citare il 16 luglio, il premio internazionale Ennio Morricone, il maestro Morricone ha voluto fortemente questo premio dedicato a lui e alla campana, ha scritto anche l'inno della campana e il 16 luglio sarà in concerto alla campana con Diversity che farà da cornice all'evento. Beh, direi una gran bella soddisfazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, dobbiamo entrare in fascia pubblicitaria tra pochissimo, continuiamo a parlare di arte che si fa musica con una voce straordinaria, tra pochissimi istanti. Grazie. 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 Grazie.